buongiorno a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi siamo di nuovo su frag e lo so raga mi scuso per i giorni di attesa di questo nuovo video anche perché mi avrei promesso di fare un video al giorno però non ce l'ho fatta comunque sto andando abbastanza bene come vedete ho molti trofei e per tutti quelli che hanno frag questo qua è il mio mazzo a giorgia comunque fatti grandi prove grandissimissimissimissimissim progressi bravo vabbè andiamo subito a combattere online liberamente aspettiamo il caricamento siamo in russia mi sa no ok siamo in germania stiamo attaccando un tizio della germania ok mi sta bene no dai raga voglio attaccare con il magic knight dopo con jenkins proprio con il magic knight ma è attaccare da lontano col magic knight una piccola regola o c'è frotby c'è dr frost perché non muore vorrei con punta non è benché capito vabbè vabbè prendiamo jenkins ma chi per chi stai qui sopra jenkins vyavesti di vendere dal basso vabbè sto jenkins capito che potente buono un po' d'intelligenza sto jenkins No 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 Ma tu sei la difesa Caspita vieni qua a rompere No tu devi difendere Vabbè a parte che abbiamo già difeso Oh Melissa scappando come una matta Buggandosi incredibilmente Dov'è finita? Vabbè Penso che non ci sta attaccando Ok Ok abbiamo spaccato la barriera intanto Oh mio dio Non mi ricordo che c'era Vabbè Dai dovresti morire Raga perché non muore? Ok è morto Scusate l'ho sperato miliardi di colpi Sta buggando tutto Oh mio dio Aiuto 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 Che raga Due sole cose O io c'è la connessione debole Oppure lui c'è la connessione debole Probabilmente lui perché non vedo nessun simbolino in alto Ok andiamo con il mancino debole Ok andiamo con il mancino debole Vabbè Vabbè mi hanno ammazzato Non so se questa qua la vinco Il fatto che si stanno buggando senza fine Guarda cammina a vuoto Cammina a vuoto Qui lancia le bombe Non esplodono Scusa Oh mio dio Meli stai ferma Un attimo ti prego Fumaggio di Fumaggio di Ok Ammazzata Che cane Ma che Dan mi ha ammazzato Come la sfida fa ad ammazzare Dan Vabbè Vaggiamo Vaggiamo Dan no Ok No Ma tu sei da difesa Raga è da difesa Non ci può attaccare Ok abbiamo vinto Non ci importa niente Siamo stati buggati Siamo stati fatti male Va bene Andiamo Vittoria Ok Va bene Vediamo dopo che cosa farò Oh Tra un po' Sblocco il forziere frag Il forziere d'oro Ok Andiamo un attimo A fare un'altra partita E poi basta Un'ultima partita Oh Questo qua mi sconfiggia Per me Per me questo qua mi sconfiggia Un botte di trofei Non so nemmeno perché Sto in questa arena Se dovrebbe stare in arena Però Ok Ok quindi qua dobbiamo stare molto attenti Guardalo lì sopra Pezzente Vai via No 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 Tu Qua non lo c'è vivo Tutto il floschi rompe Mannaggia Vabbè raga Lo prendo col magic Un attimo Prima però dobbiamo difendere Dan Non vabbè Ucciso dal big park Vabbè Il big park è abbastanza normale Che uccida però Caspita Prendi quello Che sta vicinissimo O te c'è un fucile a pompa Ti impauri di big park Se tu c'è un fucile a pompa Ok Andiamo un attimo Ad attaccare con la difesa Però Dettagli a parte Ti odio quei robottini Mi hanno un fastidio Orribile Meno Ora raga 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 Questa qua la vinco Questa qua la vinco Questa qua la vinco Non so perché però la vincerò Anche se ha tipo Mila trofei su tizio Mila trofei che passa Oh mio Dio mi ha spiegato il missile E mi ha ammazzato Dan Dan stai calmo Dan Perché tani sempre fastidio voi Madonna Certo che la vinco Ok sono certo che non la vinco Ma muori Prenditi sta muoto V in faccia Ecco No raga questo qua la perdo Ma che caspita stai qua Se ti vuoi ammazzare quello Oh Big Buck Vai avanti tu Io ammazzo lì dietro Non mi devono ammazzare Non mi devono ammazzare No 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 C'è sto big bucko che mi sta dando fastidio Dai ma una piccola cecchinata in testa non fa mai male Cioè fa male a lui Però non fa male mai Ragazzi ho scoperto Dimmi che ci sono le supplementari Le supplementari Ok raga questa forza la vinco No 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 Calmi ritirata 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 Aspetta No 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 Via 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 57 Oh mio dio Ma siamo già le supplementari No 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 Ecco Affanti Affanti Appunto ci sono le supplementari Ora con un minuto per Per stravincere Ok Adesso non mi quello troppo Però comunque sto sull'attenti Perché forse vinco Ok no 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 Ecco Ecco qua È vivo Praticamente ho perso Ho perso Ho perso No ho vinto Perché ho vinto Più 40 No vabbè Perché ho vinto Oh mio dio Vabbè raga Da vostro Scrivetevi Oggi è tutto E ci vediamo All'un prossimo video E ci vediamo